Ecco, io ritengo che noi siamo sindaci e prima di arrivare all'elezione presentiamo un programma. Ecco, io vi riferisco che noi siamo, come diciamo in molti dati, siamo un terzo della superficie. Quindi, consideriamo poi il cargare. Ecco, noi siamo un'entità vega, seria. Ritengo che quando si va a votare, quando si va a votare, ci vuole un progetto, ci sta questo progetto? No. Ecco, i mondi d'avone, i piccoli comuni, sono stati considerati, sono stati considerati, si è discusso. Ecco, le esigenze che noi abbiamo, le zone mondane, sono totalmente diverse dalla piana, delle grandi città, che purtroppo queste grandi città decideranno, siccome io consideri che noi siamo un'entità valida, perché siamo tanti comuni, siamo tanti comuni, vogliamo essere considerati e dobbiamo essere, ecco, io faccio un appello, noi dobbiamo essere, dobbiamo stare insieme, dobbiamo stare insieme tutti i piccoli comuni e dobbiamo dire la nostra e la dobbiamo dire, la dobbiamo dire subito, adesso. Noi ci dobbiamo unire, perché siamo uniti, siamo un'entità precisa, siamo un'entità precisa. I mondi d'avone sono diversi, i mondi d'avone sono diversi, noi siamo diversi, perché abbiamo esigenze molte diverse e vogliamo essere considerati, questo è quello lì.